tolle balle no ma ci passi passare ci passi quello non è un problema perché passare di qua ci passi dai ci passi figa sì ma quello faceva uno e due a passare sopra metteva un solotto dietro lì e saltava di là è fonda di bestia questa qua figaro fonda di bestia ci proviamo 40 centimetri vabbè Pietro guarda qua più indietro davvero se c'è un passaggio si dico al solito di quel pezzo questi sono piraglia no no un bel pezzetto guarda ma di qua è pulita l'acqua effettivamente guarda sotto belle anche ma che vado vengono a mangiarmi via tutta la pelle come fanno in Giappone comunque indietro per forza il passaggio Pietro voi siete venuti di là ma il passaggio è qua indietro sicuro garantito io comunque ci passerei sì sì ma questo si passa sì figaro è un pallone è veramente enorme però è fonda di bestia bello che almeno perlomeno a parte tutta la schifezza che c'è dentro ma i pesci ci sono cacchio no vai indietro Pietro va indietro che è indietro non mangi mica tutte le cose qua l'ha già mangiata qualcun'altra più in su ma no ma non è su dai è un po' sì che siete andati fino a di là dall'altra parte ma va no non l'altra volta ma di là arrivi a Montorfo sì ho capito ma figa sì ma va deve avere due pieni cazzo ma sei fuori sì 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 Grazie a tutti.